Presidente Ricci, il Matteotti si farà, si correrà regolarmente domenica 16 luglio, però c'è tanta amarezza in questi giorni perché il campionato italiano non si farà a Pescara e perché lei contava, sperava, in qualche contributo da parte del Comune, contributo che fino ad oggi non è arrivato. Ma vabbè, 70 anni era da vigliacchi non fare il trofeo Matteotti, considerando che tutti quando parlano di liberazione dell'Italia, io nel 1945 ancora nascevo come nemmeno voi, ma dopo tre mesi poche persone con Fulvio Perna hanno organizzato in un mese il primo trofeo Matteotti con grossi campioni, noi ci dovremmo vergognare che non siamo capaci in tanti anni ad organizzare un campionato italiano e riconoscere il trofeo Matteotti i 70 anni di una gloriosa storia su questa manifestazione. Lei è arrabbiato con la federazione? Ma guardi, io sono arrabbiato non solo con la federazione, forse non solo io, è l'italiano che è arrabbiato, è arrabbiato contro tutto e contro tutti. Noi viviamo in una situazione che forse nessuno ha mai pensato, noi abbiamo la fortuna forse di passare nella storia fra mille anni, di vivere in una situazione dove ci sono stati due papi, noi abbiamo due papi, non è che è successo in duemila anni altre volte penso, e abbiamo anche due presidenti della Repubblica, uno che è una bravissima persona e un altro che è detto delle regole. E quindi è chiaro che stiamo vivendo una storia completamente sballata, da 40 anni, forse senza fare politica, da quando è successo Tangentopoli, da Di Pietro, non è cambiato niente, 30 anni, peggio di prima. E quindi io non trovo, io come imprenditore dico la verità, fra cinque anni se dovessi pensare cosa fare, cosa che prima lo potevo sicuramente organizzare, adesso non so, non lo so. Perché tutti quanti siamo in una situazione dove ci portano da una parte e dall'altra, quindi anche il Trofeo Matteotti, sicuramente vi posso assicurare che faccio il settantesimo anno per onorare non solo Pescara, perché io ci tengo tanto a Pescara, e tutte le persone che sono affezionate al Trofeo Matteotti, nonni, padri, eccetera, eccetera. E per l'Abruzzo, ma sicuramente potete essere certi, io nel settantunesimo spero che entri qualcuno, che glielo regalo, tutto quello che volete, ma io sicuramente non lo organizzo più.